Chissà se in questo 2010 finalmente riuscirò anche io a cuccarmi una be... Ma dai, è una missione impossibile. Sono quattro anni che sei lì che non riesci a tirare giù la rugge. Eh vabbè, ma allora quando è che mi diverto? Beh, ti puoi divertire per esempio tutti lunedì con la nuova programmazione WWE di Monday Night Raw. Alle 3 di notte la diretta in lingua originale e la sera dopo, il martedì alle 20, la telecronica in italiano a cura di Franchini e Posa, quelli che sparano cazzate a Iosa. Eh ho capito, ma se io volessi divertirmi che so anche il venerdì? Sì, sì, sì. Venerdì? Basta chiedere. Nuova programmazione anche il venerdì. Dalle 19 la ICW, dalle 20 Superstars e dalle 21 SmackDown. Il tutto sempre, solo e soltanto su Sky Sport 2 e Sky Sport 2 HD. Quindi due giorni a settimana li ho già impegnati. Adesso me ne rimango un cinque. Eh va bene, con il grande wrestling, cercato WWE su Sky. Guarda qua il decoder HD di Sky. Il miglior spettacolo nella miglior definizione. E c'è pure il leone che te lo porta. Ma è una tigre, non il leone. È il leone della Maremma. Io lo so che ho studiato, è una specie protetta. Sì, è già nella tigre del ribaltabile. Allora, il leone, che è aggressivo, vi porta anche una nuova programmazione wrestling. La diretta di Raw. Finalmente ci siamo, come potete leggere sul cartello, ora in pancio, impressione. Tutti lunedì, notte alle 3 su Sky Sport 2 e Sky Sport 2 HD. Oppure, se non volete fare le ore piccole, con la telecronaca in italiano, il martedì alle ore 20. E il venerdì? Il venerdì, caro Godzilla. Sullo stesso canale, alle 19, abbiamo la ECW. Alle 20, WWE SmackDown. E alle 21... Rawr! WWE SmackDown! Perché la WWE è solo qui, su Sky HD. Sei sempre il solito vecchio gheppardo, Fred. Y.M.C.A. Y.M.C.A. Ma cos'hai? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Si chiede perché stiamo festeggiando, ma è chiaro. Lo sanno tutti, anche i sassi. Diglielo, Frank. Ma dov'è stato questo? Eh, ragazzino del tombino, dai! La WWE è una nuova programmazione. Tutti lunedì, notte, alle 3. Rawr è in live, in lingua originale. Mentre il martedì, alle 20, c'è la telecronaca in italiano, a cura di Franchini e Posa. Non c'ho già più fiato. No, Frank, recupero. E poi, al venerdì, invece di uscire e di ubriacarvi come dei bonzi, o di spignattare la ragazza, vi mettete sul divano e vi cuccate tutto questo bendiodino. Alle 19, l'ACW. Alle 20, Superstars. E alle 21, WWE SmackDown. Quindi, a seguire, quando è finito, alle 23, si riva... Ayambe! Sulta! Paralalalalala, Ayambe! Paraparalalala, Ayambe! Chiamiamo quelli che portano l'ossigeno. Si cuoce. Sì! Perché Raw finalmente spara il mondo. Sì! Sì! Perché Raw finalmente spara il mondo. Sparca live su Skysport 2 e Skysport 2 HD. Tutti lunedì notte alle 3 in lingua originale. E al martedì alle ore 20 con la telecronaca di queste due... Belli imbusti! E al venerdì sera cosa faccio io? Vado in giro a curare le biciclette?! No, caro Godzilla, il venerdì c'è il carnevale del wrestling! Sempre sullo stesso canale, alle 19 la ECW, alle 20 Superstars e alle 21 SmackDown! Insomma, la grande WWE è solo qui su Sky Sports! Quando ero bambino, per guardare il Bresti, dovevo affidarmi alle tv locali e in orari notturni poco congegneri. Quando ero bambino, il Postal Market arrivava ogni sei mesi ed era una grande festa. E la grande festa ce l'hai anche oggi qui su Sky, perché finalmente Raw sparca live! Quando? Tutti i lunedì, notte alle ore 3, in lingua originale su Sky Sport 2 e Sky Sport 2 HD! E sul medesimo canale, ogni martedì alle ore 20, con la telecronaca in italiano, fornitevi da questi due belli imbusti! Sì, vabbè, ho capito, è il venerdì sera, cosa andiamo a fare? A ciucciare i cocomeri? No, Frank, il venerdì sera ho tutto sotto controllo sul medesimo canale, sempre Sky Sport 2 e Sky Sport 2 HD! Guarda, ho le 19, la ECW, alle 20 Superstores e alle 21 SmackDown! E allora popolo del wrestling, con la nuova programmazione WWE, qui su Sky Sport si va alla grande!